Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma rallentamenti tra Barberino e Calenzano per traffico intenso, in A11 in direzione Firenze code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola e ci sono code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla FIPILI ci sono code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. A Firenze inviale Piombino e Viale Etruria fino al 23 marzo per lavori restringimenti di carreggiata a tratti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!